Ciao a tutti, voglio ringraziarvi perché siamo arrivati a 50 iscritti e quindi vi ringrazio uno ad uno perché davvero io ho aperto questo canale proprio per gioco, per compagnia, non mi aspettavo che 50 persone mi seguissero e si iscrivessero al mio canale, devo dire la verità, non me lo aspettavo proprio. Quindi niente, sono contentissima, spero che continuate a seguirmi, che i miei video vi tengano compagnia, che vi siano utili, un bacione e grazie a tutti, ciao!